Il pubblico ministero della procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per una 47enne residente in un paese confinante con Salerno. Avrebbe stalkerizzato, come scrive Coridiano La Città, un ex calciatore battipagliese con un passato da professionista. Il 50enne è stato prima accusato di violenza sessuale e prosciolto, poi vittima di stalking, diffamazione e calunnia. Il PM Maria Chiara Minerva, all'esito dell'attività di indagine, ha chiesto per lei rinvio a giudizio. Si era davvero preso una sbandata alla 47enne, tanto da fantasticare, su una relazione sentimentale e immaginaria. E quando veniva richiamata, la realtà cominciava a rendere denunce mendaci alle forze dell'ordine e riempiva di telefonate all'ex calciatore, inviandogli messaggi, sempre da quando riportato nel Coridiano, con espliciti contenuti sessuali. Il battipagliese se la trovava sotto casa, in palestra o al lavoro, e con tutti si presentava come la sua donna, lasciando intendere che tra i due ci fosse una relazione.